Il Molise è una regione a due velocità, da un lato cresce il settore del no profit, dall'altro si accentua la polverizzazione del sistema imprenditoriale a causa della crisi, un sistema composto prevalentemente da aziende di piccole e piccolissime dimensioni. È il dato che emerge dal nono censimento 2011 dell'industria e dei servizi, realizzato dall'Istat con la collaborazione di Union Camere. Rispetto al precedente censimento, quello del 2001, cresce il numero delle imprese, ma al tempo stesso diminuisce quello degli addetti. Arretra il settore industriale, quello delle costruzioni, avanza invece il terziario, in particolare la sanità e l'assistenza sociale. Una regione dunque piegata dalla crisi, ma che proprio a causa del lungo periodo congiunturale, ha avviato una vera e propria trasformazione. Il Molise, come il resto del Paese, registra la riduzione in termini di addetti delle dimensioni della pubblica amministrazione. Di contro, però, sale quello dei lavoratori esterni e dei volontari. Secondo i dati del nono censimento, più di un terzo delle amministrazioni pubbliche molisane mostra una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, circa il 30% adotta pratiche di renti contazione sociale. Nel corso degli ultimi dieci anni, il No Profit ha registrato aumenti a due cifre, con una presenza dinamica dei volontari delle unità locali, pari ad un più 60,9%, superiore alla media nazionale. Un Molise che cerca di adeguarsi alla crisi, puntando dunque su settori alternativi a quelli tradizionali, che sono ormai al collasso, è la fotografia scattata dall'Istat nel decennio 2001-2011. Dieci anni caratterizzati da profondi mutamenti e da una crisi da prima latente, che esplosa successivamente con conseguenze che ancora oggi il Molise continua a pagare.